buonasera ragazzi abbiamo deciso di ribattere colpo su colpo con quella capra ignorante che eh vuole fare informazione non sa che la Covizoc ha controllato i bilanci della Juventus ai fini della missione al campionato di serie A la Consob perché è normale loro sono quotati in borsa noi no è l'autorità che controlla la borsa poi come ho detto oggi c'è il collegio eh sindacale e la società di revisione i bilanci della Juventus ha detto eh il signor Frantoio erano tutti a posto quindi prendendo le eh articolo del Corriere della Sera Juventus le intercettazioni shock tra i dirigenti come calciopoli una valanga di di intercettazioni in casa Juventus negli scorsi giorni sono arrivate le dimissioni del CDA del club bianconero e l'addio di Andrea Agnelli lo sto dicendo io eh lo sta scrivendo il Corriere della Sera quindi eh Stefano Cerrato attenzione a quello che sto leggendo poi posto il link in descrizione il signor Stefano Cerrato che parla con un revisore dei conti che parla con un revisore dei conti di un'operazione di calciomercato e della Consob quindi sarà è uno della Covisoc quindi il signor Stefano Cerrato nelle incertazioni nelle intercettazioni parla con un revisore dei conti di un'operazione di calciomercato e della Consob il signor Stefano Cerrato dice al revisore dei conti penso che però sarebbe opportuno dargli alla Consob un riferimento più o meno di principio contabile o di o di qualche cosa cioè posso io supercazzolarli in modo più raffinato invece di dire solo questo dice il signor Stefano Cerrato a un revisore dei conti quindi con chi stava per parlando il signor Stefano Cerrato con qualcuno della Covisoc perché sta parlando con uno della Consob i bilanci della Juve ha detto ha detto il signor Frantoio sono tutti certificati capra 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 ma chi vuoi fregare con queste informazioni false te sei falso come quel falso gel che ti metti in testa te ti pettini tirando lo sciacquone capra i bilanci della Juve ha detto erano tutti certificati e infatti proprio infatti Elkan ha patteggiato con gravina proprio perché i bilanci della Juve erano tutti a posto per quello Elkan ha detto sì ok dai dai ho 20 minuti di tempo facciamo un patteggiamento ha detto Elkan a gravina eh per quello il processo penale c'è proprio perché i bilanci erano tutti a posto comprese le plusvalenze gonfiate perché qui questi articoli il Corriere della Sera il tempo parlano di tutte le plusvalenze gonfiate perché attenzione perché poi sempre in questo articolo che vi posto in descrizione Cherubini e dice l'abbiamo fatta grossa lo stesso Cherubini sarebbe andato in crisi ho avuto delle sere che tornavo a casa mi veniva da vomitare parole di Cherubini nelle intercettazioni mi sentivo che mi stavo vendendo l'anima perché ero complice di alcune cose riportato dal Corriere della Sera dal Tempo e da altri mille giornali ciao Inter meglio chiudere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti